Eccolo nero su bianco l'importante traguardo per la Busatti che ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità a produrre e commercializzare mascherine chirurgiche di tipo 1. La D della storica azienda di tessuti che si trova nel cuore di Angheari, Livio Sassolini, ci mostra come una parte della produzione, al lavoro ci sono circa il 40% degli addetti, è stata riconvertita per produrre questi dispositivi di protezione individuale. Noi al momento che è partita l'emergenza ci siamo riconvertiti subito e abbiamo iniziato a produrre mascherine secondo le indicazioni dell'ordinanza del Presidente Rossi, le Toscana 01. Dopodiché abbiamo avviato la pratica all'Istituto Superiore della Sanità per ottenere un riconoscimento maggiore e quindi una omologazione a dispositivo medico. Il percorso è stato molto complesso, però siamo stati anche fortunati nel percorso perché abbiamo inseccato il materiale corretto, la pesantezza corretta, i test di laboratorio sono andati bene e di conseguenza siamo riusciti a ottenere in relativa velocità, diciamo una trentina di giorni, questa importante omologazione a mascherina chirurgica di tipo 1. Che è quella che indossa. Che è questa che indosso, esatto. E tengo a precisare che anche noi come azienda questo ci ha dimostrato una cosa secondo me importantissima. Per noi sono state fondamentali le risorse interne, le risorse umane, perché sono state proprio quelle che fin dall'inizio ci hanno stimolato a realizzare questo percorso. Quindi è la dimostrazione che proprio se si investe in noi stessi e nei nostri collaboratori, anche al di fuori dell'azienda, poi le competenze tornano sempre per un bene comune. Adesso le mascherine Busatti sono a tutti gli effetti presidi medici e non più semplici mascherine per la comunità. Un risultato di grande valore se si pensa che ad oggi su 60 aziende toscane che hanno avviato l'analogo ITER, solo due, una delle quali è proprio Busatti, hanno ricevuto il nulla osta dell'istituto. E questo ci permette anche di dare comunque la possibilità innanzitutto di mantenere parte del nostro personale dipendente e in secondo luogo comunque di poter anticipare per tutti la cassa integrazione che altrimenti ha dei tempi un pochino lunghi diciamo per la vita quotidiana di tutti noi. E per quanto riguarda la commercializzazione noi ci rivolgiamo soprattutto o a una distribuzione privati, attualmente solo tramite il nostro e-commerce, ma poi da lunedì prossimo anche tramite i nostri punti vendita in Toscana, e in secondo luogo anche tramite una vendita che avviene alle aziende che appunto richiedono mascherine chirurgiche per poter garantire la continuazione o comunque la ripresa del lavoro in tutta sicurezza. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.